Immaginate una macchina senza autista che viene a prendervi comodamente a casa e che attraverso un semplice click vi conduce a destinazione. Incredibile ma vero, gli studi tecnologici applicati alla programmazione della mobilità urbana potrebbero generare sistemi innovativi di trasporto. Le cybercars esistono, ora vanno sperimentate magari anche in città come Reggio Calabria. La tecnologia rende possibile per un veicolo guidarsi da solo, lo rende da qualche tempo ma insomma adesso lo può fare in maniera completamente sicura, lo può fare negoziando il proprio spazio all'interno anche di una strada come vedete molto affollata con pedoni che passano continuamente di fronte al veicolo e in perfetta sicurezza il veicolo si ferma, li lascia passare e poi riprende il suo cammino. Automatizzare i veicoli consente di realizzare sistemi di trasporto pubblico con qualità, comfort, puntualità e affidabilità comparabili con quelli dell'automobile senza però avere tutti i disagi e tutti i problemi che l'automobile causa. In questo momento stiamo assistendo ad una prova, dopodiché se il progetto dovesse convincere qual è l'iter? L'iter intanto è quello che Reggio Calabria sarà partner in un prossimo progetto di ricerca in cui si ambisce a fare dei dimostrativi di 6-8 mesi, quindi se il progetto sarà finanziato, se Reggio Calabria risulterà fra le città finanziate ci sarà la possibilità di vedere un sistema di trasporto in funzione qui a Reggio per 6-8 mesi in maniera continuativa basati su queste tecnologie. Dopodiché ogni città, ogni sindaco, ogni regione ha la possibilità di investire i soldi che servono per la gestione del trasporto pubblico nei progetti che ritiene più importanti.